buongiorno a tutti eccoci nel nostro terzo video su caravaggio come al solito io ricordo a chi ascolta e chi guarda e ascolta questi video tutorial che inseriscono al mio canale youtube che da questi video tutorial o semplicemente video non ricavo alcuna monetizzazione i file video e i file immagine sono raccolti su internet a disposizione di tutti i file audio eventualmente utilizzati sono acquistati legalmente e quindi insomma sottolineo il fatto che non c'è nessuna monetizzazione e che questi video sono realizzati semplicemente per il piacere di farli per il piacere di condividere delle riflessioni su argomenti molto specifici anzi su argomenti che spesso come ascolterete in questo caso in questo video su argomenti che sono stati appena sbozzati diciamo così appena individuati e che meriterebbero molta più attenzione e molto più approfondimento cosa che mi riservo di fare nel tempo libero che avrò a proposito soprattutto appunto di caravaggio cosa che mi ripropongo di fare dicevo appunto proprio per quanto riguarda caravaggio e a questo proposito sto 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 scorrendo un po l'immagine basse che ho utilizzato per questa mappa concettuale sugli argomenti che tratterò molto rapidamente purtroppo in questo video molto rapidamente perché ci vorrebbero molti 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 più video per raccontare nel dettaglio alcune delle cose che qui semplicemente suggerisco e questo video lo intitolo e l'ho intitolato il mantello nero di caravaggio ma in realtà il titolo vero dal quale sono partito e che poi si rivela appunto qui carceri e catacombe in realtà poi questo titolo ne parleremo scorrendo le immagini di questo file pdf fra un po' torno a questa immagine con un famoso quadro di caravaggio e cioè l'estasi san francesco questo non è tutto il quadro intero è solo un particolare rilevante è un dipinto grosso modo degli anni dei primissimi anni romani di caravaggio e vi si nota già qui un bel po' di cose anche questo sarebbe un altro argomento da approfondire che non ho messo nella mappa ma che certamente andrebbe approfondito vi si nota dicevo che cosa vi si nota prima di tutto l'interesse e la vicinanza di caravaggio hai alla spiritualità sentita personalmente in un certo senso quasi pragmaticamente sulla propria pelle come appunto san francesco può aver dimostrato o se preferite semplicemente francesco e tra l'altro se osservate bene i volti di francesco e dell'angelo che lo assiste o che media con il padre eterno diciamo così in questa in questo momento di estasi che anche allo stesso tempo sofferenza abbandono forse anche dissoluzione della personalità precedente alla ricezione delle stigmate appunto noterete che il volto di francesco ricorda molto da vicino il volto di caravaggio visto in altri dipinti e anche ricorda molto da vicino il volto di caravaggio visto dal suo collega e amico leoni il quale aveva fatto un ritratto a posteriore appunto di caravaggio e gli assomiglia un bel po' direi così come l'angelo ricorda molto da vicino i soggetti rappresentati da caravaggio quando arriva appunto a roma e in parte aveva già iniziato a fare anche a milano i soggetti con il bacco soggetti molto ambigui ecco qui già in questo dipinto con francesco in estasi che mostra peraltro se vogliamo parlare di stimmati in particolare la ferita nel costato che si apre si mostra diciamo con una sorta di strappo a forma di cuore sul saio rude di San Francesco e da dove viene fuori appunto questa ferita nel costato che ricorda la ferita del costato di Cristo questa ferita nel costato se vogliamo se vogliamo parlare anche se vogliamo fare qualche associazione anche con altri dipinti in particolare con tutti i dipinti che rappresentano testa e mozzate beh possiamo dire che veramente caravaggio è stato un visionario e in qualche maniera certi soggetti da lui realizzati le modalità con cui li ha realizzati ricordano fanno pensare come premonizioni come visioni anticipanti la fine di caravaggio stesso il quale come si sa come si sa diciamo più che altro come si ipotizza con un buonissimo margine di sicurezza caravaggio sta prima di morire forse sulle coste di Porto Ercole è stato sfregiato a Napoli all'esterno di una brutta locanda di una bettola con prostitute e ragazzi di vita diciamo così è stato sfregiato probabilmente al volto con una ferita piuttosto profonda che poi in realtà non ha curato più di tanto comunque a parte questa premonizione dove appunto caravaggio si mette nella sorte e nel destino di un santo come Francesco c'è veramente un'infinità di cose da dire comunque qui quello che volevo mettere in evidenza subito è questo rapporto tra il volto di caravaggio barbato e il volto che possiamo dire presunto di un caravaggio sbarbato che sarebbe poi appunto il volto dell'angelo che ha tra l'altro un atteggiamento estremamente sensuale come si vede poi nelle rappresentazioni, nei dipinti nelle raffigurazioni di Bacco in senso certamente cristologico in altri dipinti o con significati anche ulteriori e il fatto che Caravaggio mettesse il suo volto sul personaggio di San Francesco ci dice un'altra cosa importantissima che abbiamo già citato nei video precedenti e tra l'altro ovviamente io rimando prima della visione e dell'ascolto di questo video rimando alla visione e all'ascolto dei video precedenti su Caravaggio che sono assolutamente fondamentali Caravaggio è sempre stato fin da piccolo quando ha operato nell'ambiente connotato teologicamente, socialmente, religiosamente da Carlo Perromeo è sempre stato molto vicino a un tipo di religiosità possiamo dire popolare o addirittura possiamo dire primitiva paleocristiana una religiosità di tipo evangelico pauperistico tutto ciò ricorre in infiniti esempi che riguardano Caravaggio e naturalmente quando si dice religiosità di tipo evangelico pauperistica primitiva paleocristiana non si intende solo San Francesco ma si intendono anche la posizione di Ignazio di Loyola il padre del gefitismo si intende anche la posizione dei filippini proprio tra XVI e XVII secolo si intende per certi versi anche la religiosità raffigurata appunto nelle catacombe che Caravaggio ha certamente visitato dunque dicevamo la parola chiave catacombe che io ho associato alla parola chiave carceri chi conosce la storia di Caravaggio non può non ricordare non può tener conto di della parola carceri indubbiamente perché Caravaggio è stato più volte rinchiuso in carceri che al tempo diciamo che nel Cinquecento e successivamente nei primi del Seicento non erano certo le carceri di oggi molto spesso si utilizzavano carceri già esistenti dall'antichità soprattutto se si stava a Roma ma anche in altre zone come per esempio a Malta come per esempio in Toscana quindi non erano carceri qualsiasi adesso vedremo qualche immagine la parola carceri però io non la commento da sola ma la commento insieme alla parola catacombe e la commenterei anche insieme ma senza aggiungere molto su questo argomento visto che l'ho già trattato nei video precedenti aggiungerei anche la parola Sacrimonti della zona prealpina appunto che Caravaggio aveva conosciuto da piccolissimo che erano stati diciamo incentivati dalla religiosità di San Carlo Borromeo che lui stesso tra l'altro era andato in pellegrinaggio in questi Sacrimonti non soltanto quello di Varallo ma poi ce n'erano altri in fase di realizzazione in questi Sacrimonti spesso c'erano dei luoghi di culto particolari dove si rappresentavano scene come la natività per dire o anche semplicemente dove si veneravano figure della massima importanza per la religione cristiana come la Vergine questi luoghi particolari erano spesso anche ricavati un po' da una sorta di antiche caverne quindi c'era fin da allora in queste e c'è ancora in queste in questi luoghi sacri visitati soprattutto a livello di popolo che ha una visione molto semplice diretta a contatto diciamo di pelle con il sacro in questi luoghi si apprezzava già il sincretismo tra religiosità spiritualità luoghi cavernosi importanza della pietra che è una cosa che poi ricorre anche in altre fasi della vita di Caravaggio e quindi concentriamoci però semplicemente sul discorso carceri e catacombe carceri e catacombe poi parleremo anche di questo mantello nero di Caravaggio quando Caravaggio arriva a Roma quando Caravaggio arriva a Roma erano state scoperte da poco le catacombe di Domitilla famosissime nel nostro tempo visitatissime nel nostro tempo ma allora era stata una scoperta eclatante naturalmente si conoscevano già tante catacombe nella zona diciamo sotterranea di Roma non era non era certo una novità però quelle catacombe di Domitilla sono particolarmente importanti erano state scoperte in grosso modo nel 1593 ed erano state scoperte da un personaggio molto particolare andiamo subito a quest'altro file appunto le catacombe di Domitilla ecco qui ne vediamo alcuni esempi non serve vedere tante immagini ne bastano due o tre diciamo catacombe di Flavio Domitilla via Ardeatina Roma primo secolo scoperte da un tizio molto particolare che era Antonio Bosio Antonio Bosio lavorava per i cavalieri di Malta o forse era lui stesso un cavaliere di Malta in incognito diciamo così nel 1593 c'è la riscoperta appunto di queste catacombe pezzo pezzo e quindi poi ci vorrà molto tempo per poterle diciamo restaurare a tutti gli effetti questo Antonio Bosio era di fatto una specie di archeologo antelitteram e appunto come dicevo era molto legato ai cavalieri di Malta il fatto che fosse molto legato ai cavalieri di Malta chiaramente ci dice moltissimo qui siamo nel 1593 Caravaggio potrebbe essere arrivato proprio in questo momento grosso modo a Roma c'è chi dice 1592 c'è chi dice 1595 in ogni caso Caravaggio a Roma in periodi assolutamente vicini a questa presunta data c'è ci sarà e sicuramente e sicuramente visiterà le catacombe quando dico sicuramente lo dico non perché c'è qualche documento che lo attesta ma perché ci sono altri documenti che attestano che invece lui ha visitato ha voluto visitare le catacombe di Siracusa le catacombe di Santa Lucia a Siracusa e anche di quello abbiamo qualche immagine quindi sicuramente avrà voluto visitare anche questo luogo così come poi sappiamo che ha partecipato a un pellegrinaggio a Loreto cioè Caravaggio era un tipo che mentre le fonti ricordano come dire tutte un carattere assolutamente scontroso irriverente presuntuoso attaccabrighe eccetera 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 in realtà poi però se si vanno a guardare altri documenti compresi anche documenti scritti si nota sempre e attenzione quando parliamo di documenti dobbiamo citare per forza di cosa i suoi dipinti che sono i primi documenti che uno storico dell'arte deve considerare come tali riguardo a Caravaggio Caravaggio si è sempre interessato in ogni occasione in cui ha voluto dovuto raffigurare scene sagre si è sempre interessato di avere un rapporto diretto personale con i luoghi del sacro come un regista ad esempio come un regista che va a vedere i luoghi e sceglie i posti si fa ispirare dai luoghi reali anche per creare delle scenografie e poi realizza ciò che deve realizzare ora se guardiamo queste foto delle catacombe di Domitilla e naturalmente come dire il fatto che questo Antonio Bossio fosse vicino ai Cavalieri di Malta anzi su questo non ci sono dubbi perché aveva proprio degli incarichi ben precisi è chiaro che questa cosa probabilmente Caravaggio ha conosciuto anche questo Antonio Bossio perché poi quando a un certo punto decide da Napoli di andare a Malta si accumulano tutta una serie di come dire destini che lo portano appunto a fare questa scelta ma si tratta di cose che in un certo senso si tratta di destini che in un certo senso erano stati già preparati al tempo della sua permanenza fino a circa 21 anni in zona milanese apriamo una piccola parentesi per dire semplicemente che il periodo grigio tra il 1592 e il 1595 potrebbe anche essere coinciso con una permanenza a Venezia d'altra parte uno dei suoi primi estimatori e diciamo committenti di altissimo livello sarà appunto Carlo Maria del Monte il cardinale che appoggiava i francesi nell'elezione per il Papa e che era veneto appunto di Venezia e che aveva nella sua collezione diversi dipinti di pittori veneti come Giorgione e Tiziano questo è accertato appunto chiusa questa parentesi se guardiamo queste immagini le catacombe di Domitilla tenendo conto anche del fatto che chiaramente noi abbiamo ora dei luoghi illuminati con luci artificiali sia in queste immagini che questa sia in altre immagini ecco questa per esempio chiaramente noi abbiamo vediamo osserviamo queste catacombe con la luce artificiale ma al tempo di Caravaggio sicuramente sarà stata non tanto diversa la luce utilizzata per osservare queste catacombe cioè luci diciamo fiaccole di vario tipo con sostanze infiammabili che potevano durare abbastanza quello che voglio dire cioè che anche se qui abbiamo le luci artificiali però l'effetto visivo questa in particolare non doveva essere troppo diverso da quello che si nota appunto con le luci artificiali quindi Caravaggio avrà sicuramente sperimentato un una visita a luoghi dove tra l'altro in quel tempo sicuramente saranno stati presenti molti più resti ossei di defunti appunto quindi Caravaggio ha avuto un'impressione avrà avuto avrà cercato e avrà voluto sperimentare anche nella vista da queste catacombe una sorta di rapporto diretto stretto tangibile tattile quasi con il sacro che coincide anche con la morte e se osserviamo per esempio anche certi luoghi come questo il fatto di scendere nelle profondità della terra scendere nel regno di Ade nel regno del fratello di Zeus appunto cioè il regno dei morti è qualcosa che ritornerà spesso nella sua vita che si tratti di catacombe o che si tratti di carceri la sostanza del discorso è quasi la stessa nel senso che anche per quanto riguarda le carceri lui sarà arrestato varie volte e anche se i periodi di carcerazione saranno brevi ma in un certo senso corrispondono alla intensità della sua vita sono brevi per lui ma come dire ma sono intensissimi anche le carceri sono percepite in fondo da un punto di vista sacrale perché poi questo discorso del carcere catacomba grotta dove il sacro si manifesta nella maniera più istintiva genuina spontanea paleocristiana questo discorso viene poi ripreso non a caso anche da Ignazio di Loyola nei suoi esercizi spirituali magari se non si allunga troppo questo video cito qualcosa poi su questo argomento che è un argomento che va assolutamente approfondito quindi carceri e catacombe guardiamo questa immagine ad esempio questa è sempre un'area delle catacombe di Domitilla qui c'è scritto chiaramente Bosio cioè probabilmente ha lasciato un ricordino forse non lo stesso Bosio forse qualcun altro o forse sì questo sinceramente non ho approfondito il discorso però attenzione queste catacombe naturalmente le luci l'illuminazione le murature le pavimentazioni alcuni frammenti di dipinto tutto ci induce a ritenere che Caravaggio si è ispirato profondamente a ciò che ha percepito come impatto forte sulla sua anima quando ha visitato queste catacombe perché per esempio la rappresentazione di Santi con queste vesti così antiche arcaiche con questo atteggiamento del volto anche semplificato arcaico pauperistico per forza di cose ma in queste catacombe e nelle carceri comunque dove facevo esperienza anche con altri personaggi di situazioni particolarmente brutali e diciamo primitive di vita sicuramente anche le luci ricordano cioè si associano benissimo ai dipinti che poi Caravaggio ha realizzato che quindi non dobbiamo per forza di cosa spiegare solo con il dettato del concilio di Trento con come dire l'uso delle immagini da un punto di vista dogmatico filtrato eccetera eccetera si tratta anche di cose che Caravaggio doveva necessariamente toccare con mano cosa che ha fatto sempre in tutta la sua vita quando ha potuto l'ha fatto quando doveva rappresentare il sacro lui cercava qualcosa che lo potesse avvicinare da tutti i punti di vista all'essenza di questo sacro che doveva rappresentare e ripeto che sul discorso carceri e morte diciamo ci sono dei passi specifici proprio nei esercizi spirituali di Ignazio di Loyola andiamo avanti vediamo altre immagini ecco qua sempre catacombe di Domitilla qui vediamo delle figure femminili con queste lunghe vesti il colore di queste vesti i colori alcuni colori che si ritrovano all'interno sono spesso volentieri reiterati nei dipinti Caravaggio cioè il giallo ocra il rosso il bianco lo utilizza molto di più nei dipinti dove ci sono allegorie sacre collegate con la figura di Bacco o simili poi Carceri dobbiamo andare dobbiamo andare svelti perché non voglio appesantire questo video Carceri allora noi sappiamo da documenti anche perché sono gli unici documenti che noi abbiamo sono documenti che hanno a che fare con la giustizia per quanto riguarda Caravaggio e quindi noi sappiamo che è stato spesso incarcerato seppur come dicevo prima per brevissimi periodi nel carcere di Tordinona questo è un acquerello di autore non precisato ex carcere di Tordinona questo carcere non esiste più cioè queste costruzioni non esistono più tuttavia fino a un po' di decenni fa esisteva ancora poi è stato tutto demolito noterete dalle didascalie che questo carcere del XV secolo ma poi naturalmente è stato utilizzato per i secoli successivi finché non è stato distrutto qui in questo carcere di Tordinona tra l'altro altra cosa assolutamente da approfondire da vari punti di vista come dire filosofico psicanalitico il fatto che in questo carcere siano stati rinchiusi in passato e anche quasi contemporaneamente nello stesso periodo attenzione Cellini Benvenuto Cellini Caravaggio appunto Bruno per esempio Giordano Bruno Caravaggio a quanto pare e anche Benvenuto Cellini erano stati inchiusi al primo piano da quel che sembra o forse il contrario in primo piano c'era Giordano Bruno e Caravaggio invece in altri punti questo ripeto è un acquerello fresco bello carino ma questa invece è una foto chiaramente è un carcere che dava sul Tevere questa è un'altra cosa interessante perché molte delle carceri se non tutte le carceri che ha frequentato e da un punto di vista freudiano potremmo dire quasi che ha voluto frequentare Caravaggio dove ha voluto farsi rinchiudere Caravaggio sapendo che ci sarebbe stato poco ma che sarebbe stata comunque un'esperienza fortemente significativa che lo avrebbe segnato da vari punti di vista dicevo questa è una foto dicevo che molte delle carceri dove è stato inchiuso Caravaggio poi hanno vicino o dei corsi d'acqua o il mare o comunque uno strapiombo sull'acqua comunque e questa è un'altra cosa simbolica che meriterebbe di essere approfondita questa è una foto in bianco e nero naturalmente poi questa cosa non è più non è più visitabile insomma oggi certo è qui poi riproduco alcune alcune carceri per far capire alcune carceri di Roma dove potrebbe anche essere stato rinchiuso occasionalmente ma non abbiamo nessuna certezza però le carceri in quel tempo a Roma erano cose di questo tipo questo è il carcere Mamertino che esisteva da secoli così come quest'altra immagine ecco io le faccio vedere queste immagini proprio pensando a tutti i dipinti che ha realizzato Caravaggio a che tipo di illuminazione ci poteva essere allora certo non c'era l'illuminazione elettrica ma l'effetto rispetto al modo in cui sono illuminate oggi probabilmente è un modo che tiene conto della illuminazione dei secoli passati e quindi riproduce al visitatore una situazione similare certo non del tutto le luci fatte con olio che brucia o cose di questo tipo o fiaccole eccetera sono sicuramente più mobili l'illuminazione è più come dire quasi impressionista con colori caldi cioè un tipo di illuminazione che ha molto a che fare con i quali Caravaggio ma c'è anche un'altra questione cioè il rapporto che abbiamo visto all'inizio nel quadro con San Francesco in estasi il fortissimo chiaroscuro il rapporto di chiaroscuro che poi si può interpretare appunto da un punto di vista anche alchemico psicanalista alchemico psicanalitico scusate il rapporto di chiaroscuro il rapporto di bene e male si riproduce in tutti i quadri di Caravaggio e si riproduce e si osserva si può osservare se si vuole osservarlo se si vuole interpretarlo in questo senso nelle carceri e nelle catacombe si tratta di tutte come dire sono tutti elementi che portano sempre guardate questo sono tutti elementi che portano sempre allo stesso che convergono verso un modo di essere e di percepire il proprio destino e la propria esistenza nella vita terrena da parte di Caravaggio insomma l'interesse per gli aspetti tattili delle murature tutte queste cose Caravaggio le ha sentite le ha sperimentate personalmente ma in realtà come dire non è solo una questione d'artista non è solo una questione tecnica è una questione dell'anima stessa di Caravaggio il mettersi continuamente come attraverso come sotto una sorta di quella che Freud chiama coazione a ripetere e nella quale si cerca la vicinanza con il fine ultimo della vita che è la morte appunto se vogliamo vedere tutti questi spunti dal punto di vista freudiano della coazione a ripetere cioè cercare situazioni drammatiche come sottoposti a una sorta di masochismo morale quello che oggi si chiamerebbe senso di colpa quello che dopo Freud si chiamerebbe senso di colpa se vogliamo vedere in questo avvicinarsi continuamente ai luoghi diciamo catacombali ai luoghi alle grotte nel senso di carceri alle grotte nel senso di luoghi sacri girando intorno a tutti questi simboli a tutte queste metafore noi forse riusciamo a scoprire il vero Caravaggio che non è solo l'artista che ha cercato e che come lavoro faceva anche il protettore di prostitute e qui sarebbe da aprire un capitolo per capire bene anche se lo faceva di sua iniziativa o se lo faceva per conto terzi così come il suo rivale Ranuccio Tomassoni che poi uccide anche lui era impegnato in questo tipo di mestiere e anche lui probabilmente lo faceva per conto terzi compreso il suo stesso fratello chiudiamo questa parentesi perché al momento non è quello che ci interessa qui siamo passati a Malta siamo passati a Malta e cioè al forte Sant'Angelo alla Valletta XII secolo come costruzione originaria poi distrutto nel 1530 ricostruito nel 1560 e diventa praticamente il forte Sant'Angelo sarebbe il posto dove Caravaggio sarebbe stato rinchiuso per aver ferito anche abbastanza gravemente un confratello Cavaliere di Malta ma di livello molto più alto un Cavaliere di Giustizia un certo fra Giovanni Rodomonte Roero Conte dell'Avezza il quale poi sarebbe stato il mandante del tentato omicidio a Napoli lo sfregio e forse tutto ancora da chiarire e sapere dell'omicidio vero e proprio che potrebbe essere capitato o direttamente nel viaggetto tra Napoli e Palo di Ladispoli nel quale Caravaggio potrebbe anche essere stato gettato direttamente in mare dopo essere stato ucciso o nel breve tragitto dal carcere di Palo di Ladispoli a Porto Ercole non lo sappiamo insomma comunque forte Sant'Angelo dicevano nel 1560 viene ricostruito ai Cavalieri di Malta perché nel 30 praticamente Malta era stata pressoché distrutta dalle aggressioni musulmani e quindi ricostruiscono alcuni punti strategici tra cui appunto questo forte Sant'Angelo però quello che vediamo oggi è quello che si vede anche all'interno quando si fa diciamo si fa conoscere la collocazione della cella di reclusione di Caravaggio in realtà ci sono molti tubi circa ciò che si mostra perché chiaramente questo forte era stato poi piuttosto ricostruito e sarà di nuovo ricostruito cioè nel XVII secolo alla fine del Seicento quindi Caravaggio era già bello che è morto e dissolto nel nulla quello che vediamo noi oggi è quello che corrisponde a circa 80 anni 90 anni dopo la morte di Caravaggio quindi ci sono molti tubi circa i luoghi che si dicono i luoghi di reclusione di Caravaggio certo è che comunque anche se le celle che vengono spacciate per celle di Caravaggio non fossero veramente quelli dove Caravaggio è stato rinchiuso non saranno state certamente molto diverse insomma questi sono vari punti di vista del forte Sant'Angelo ma chiaramente parliamo di una situazione architettonica posticcia alla morte di Caravaggio figuriamoci in ogni caso quello che va detto è che anche qui ci si trova di fronte a una situazione quasi da film americano appunto dove un detenuto con l'aiuto di qualcuno riesce a scappare trova un'imbarcazione bella pronta per dirigersi a Siracusa dove il governo locale non era così tanto filo maltese diciamo così non riconosceva più di tanto il potere dei cavalieri di Malta e quindi Caravaggio ha potuto ha potuto continuare a vivere per un pezzettino della sua esistenza a Siracusa per poi spostarsi a Messina Palermo e poi tornare a Napoli ecco varie viste qui invece vediamo le presunte immagini anche se sono immagini piuttosto sfocate ed è sono difficili da trovare tra l'altro nella rete probabilmente sono soggette anche come dire a un interesse particolarmente un interesse economico non da poco perché la valletta insomma Malta non è che offra poi chissà quali spunti diciamo per accatturare dei turisti e certamente il carcere la cella di Caravaggio può essere uno di questi quindi qui vediamo delle cose che però ecco quello il discorso che facevo poco fa queste carceri possono essere viste come catacombe io avrei potuto scrivere qui catacombe di qualche tipo sarebbe stato lo stesso in un certo senso cioè dal punto di vista di un Caravaggio che ha sempre cercato un contatto forte quasi brutale con il sacro anche questa carcere rimarca lo stesso lo stesso discorso la stessa filosofia di fondo che sto cercando come dire di abbozzare senza sporgermi troppo perché naturalmente si tratta di discorsi che vanno poi studiati molto più a fondo quindi questo video in realtà è un punto di partenza per poi approfondire molto di più questo sarebbe l'ingresso e questa sarebbe la botola nella quale poi venivano gettati alcuni condannati tra cui Caravaggio stesso e dentro qua sotto c'è questa situazione diciamo da questa botola quindi che l'unico ingresso è questo non ci sono qui non ci sono vie di uscita e inoltre questo carcere questa cella anzi è praticamente realizzata in forma tronco conica è vero che ci sono tanti appigli ma è anche vero che al tempo di Caravaggio nessuno faceva quello che oggi si chiama non so adesso non mi viene il termine insomma non si arrampicava non faceva arrampicate su superfici inclinate e Caravaggio comunque come tipo avrebbe anche potuto farlo in ogni caso la botola poi era chiusa all'esterno non si poteva uscire quindi ci voleva qualcuno per poter scappare da qui bisognava qualcuno aprisse la botola e gettasse come minimo una corda al condannato per farlo uscire poi però doveva attraversare tutte queste stanze tutti questi corridoi particolari e scappare dalla parte del mare che era l'unica non controllata più di tanto in ogni caso quello che bisogna tenere presente è proprio questo aspetto questa texture del carcere e l'illuminazione che sarà stata praticamente quasi inesistente all'interno insomma il tipo di vita dei carcerati in queste carceri sicuramente è un tipo di vita brutale diciamo così poi che succede scappato da Malta e privato simbolicamente dell'abito di Cavaliere di Malta tra l'altro la cerimonia della privazio abito è stata svolta nella chiesa dove poi lui aveva realizzato il dipinto della decollazione del Battista quindi anche qui ci sono una serie di coincidenze nella vita di Caravaggio veramente incredibili e comunque privato dell'abito di Cavaliere di Malta condannato per due accuse primo per l'aggressione secondo per essere scappato senza il permesso del responsabile principale dei Cavaliere di Malta del tempo che era l'off de Vignacour che non si poteva scappare senza permesso sembra una cosa ridicola però era così insomma anche per scappare bisognava chiedere il permesso in un certo senso perché i Cavaliere di Malta tra l'altro lasciamo perdere adesso come ha fatto a diventare Cavaliere di Malta è stato un percorso piuttosto articolato ricco di spunti per i personaggi che si sono diciamo manifestati nell'ambito di questa nomina che a lui serviva per essere poi perdonato dal Papa per l'omicidio di Ranuccio Tomassoni c'è di mezzo in questi personaggi c'è di mezzo Costanza Colonna il figlio Fabrizio ci sono di mezzo tanti personaggi compreso anche il responsabile principale dei Cavaliere di Malta che a un certo punto ha dovuto anche chiedere come dicevano i video precedenti il permesso di nominare Cavaliere di Malta Caravaggio però qui diciamo il permesso è stato ottenuto perché semplicemente non è stato fatto il nome di Caravaggio in senso stretto comunque il Papa sapeva di chi si trattava su questo non ci sono dubbi insomma il Papa sapeva tutto va a Siracusa a Caravaggio e arriva in una piccola cittadina molto importante vivace in Sicilia c'erano tra l'altro alcuni suoi ex conoscenti allievi che lo aiutano e a Siracusa poi comincia a dipingere diciamo così comincia a fare dei nuovi dei nuovi quadri e tra questi viene chiesto viene chiesto di realizzare entro il 13 dicembre che è la festa di Santa Lucia viene chiesto di realizzare un quadro con Santa Lucia Santa Lucia era stata poi sepolta in queste catacombe di nuovo qui Caravaggio vuole andare a visitare queste catacombe e come vedete il posto dà proprio l'idea come dire di un qui veramente forse più che nelle catacombe di Domitilla qui Caravaggio veramente si ispira profondamente per poi realizzare quel dipinto drammaticissimo molto particolare perché l'effetto texture l'effetto luministico delle pareti scabrose come queste viene effettivamente replicato nel dipinto famoso di Caravaggio altre immagini catacombe di San Giovanni o anche di Santa Lucia a Siracusa arcosoli anche per esempio certe soluzioni che si intravedono in questi dipinti scuri di Caravaggio soluzioni architettoniche anche esse sono spesso ispirate dalla visita di queste catacombe ma la catacomba non è interessante per Caravaggio perché era la catacomba di Santa Lucia in un certo senso perché la catacomba in sé perché il luogo sotterraneo perché si avvicina al mondo degli inferi perché Caravaggio sviluppa nel corso della sua esistenza quello che Freud potrebbe chiamare una fortissima pulsione di morte che come dire vista però da un punto di vista teologico religioso e psicoanalitico una pulsione che serviva a Caravaggio per poi ricostruire la sua vita e la sua personalità una sorta di autopunizione in luoghi chiusi freddi umidi particolarmente grezzi dal punto di vista materiale dove potersi dissolvere insomma sto cercando di tratteggiare l'immagine che gli alchimisti potrebbero chiamare l'opera al nero l'anigredo la prima fase del processo alchemico dove l'alchimista deve lavorare su concetti come macerazione dissoluzione della materia e così via morte degli elementi per poi però iniziare un percorso di ricostruzione e di illuminazione fino ad arrivare alla pietra filosofale che sarebbe appunto qualche cosa di luminoso e dorato facciamo qui questo discorso in sospeso da Siracusa poi riesce a ritornare attraverso un lungo tragitto a Napoli a Napoli appunto ricomincia a fare qualcosa se non che i sicari di questo fra Giovanni Rodomonte Roero probabilmente lo beccano fuori da una bettola in orari diciamo di in orari di primissima mattina o ancora notte e un po' probabilmente mezzo ubriaco e forse sofferente intanto di di una scarsa attenzione alla sua persona dal punto di vista della salute fisica ma poi perché probabilmente probabilmente aveva anche diciamo si era dedicato ai piaceri della carne in questo bordello viene preso da circa quattro sicari viene sfregiato fortemente sul volto e viene lasciato lì ora dicevo questo atteggiamento molto strano di Caravaggio lo possiamo anche associare ma questa è una questione un po' difficile da dimostrare anche se in altri artisti è successo un po' la stessa cosa lo possiamo associare anche a una malattia che oggi si chiama saturnismo tutti gli atteggiamenti malinconici o melanconici di Caravaggio o tutti gli atteggiamenti depressivi o tutti gli atteggiamenti in quali la pulsione di morte viene in primo piano sono abbastanza facilmente riconducibili volendo avendo le basi per farlo alla malattia chiamata saturnismo cioè all'uso alla infezione del sangue con la penetrazione appunto del piombo di residui del piombo attraverso probabilmente le dita o anche attraverso altre modalità perché naturalmente il piombo era presentissimo ed è ancora presente nei colori ad olio che non sono trattati appositamente il piombo provoca delle malattie di tipo psichico cerebrali a seconda dei tipi di persona che viene colpita può sviluppare tutta una serie di patologie che fanno sembrare appunto questi pittori dei visionari dei pazzi degli isterici oppure cose che si avvicinano a questo comportamento chiusa questa parentesi perché come dire sì è una delle tante possibilità d'altra parte Caravaggio dipingeva in maniera rapida istintiva da Veneto come Tiziano come Giorgione come altri artisti probabilmente toccava moltissimo il colore con le mani anche nelle fasi iniziali e attraverso le mani il piombo penetrava nel sangue e quindi a lungo andare provocava dei disturbi di tipo psichico e anche psicologico compresa anche la perdita o la diminuzione della vista tra l'altro o diciamo scatti non solo scatti di ira ma anche una gestualità che incomincia a diventare un po' più sincopata tra virgolette questo è invece il luogo dove potrebbe essere stato rinchiuso l'ultimo carcere dove è stato rinchiuso Caravaggio cioè il castello fortezza di varie famiglie notate prima Orsini poi Borgia Peretti Peretti cioè Sisto Quinto il Papa Marchigiano i Farnese i Odescalchi e così via insomma un posto che è passato attraverso le più importanti famiglie nobili dei secoli passati di area toscana e romana insomma Palo di Ladis un bel posto un bellissimo posto come si vede da questa immagine però aveva anche delle carceri e qui il discorso è che questa è una foto di una di queste carceri ancora esistente insomma che è stata lasciata come esempio dei periodi passati qui il discorso è che appunto da Napoli Caravaggio si stava dirigendo forse forse non c'è non c'è una vera certezza si stava dirigendo verso Roma con almeno tre quadri importanti qui fa scalo questa feluca che è partita da Napoli una piccola imbarcazione con dentro poche persone 6 o 7 persone compreso il capitano aveva imbarcato merci di vario tipo e anche Caravaggio con i quadri ma qui fa scalo si sono dette tante cose su questo aspetto cioè forse che non doveva affatto fare scalo altri hanno detto no era proprio una diciamo una stazione di posta bisognava fare scalo per forza è stato il fatto che qui comunque una volta fatto scalo si dice nei documenti ma attenzione i documenti si possono sempre ritoccare e modificare lo si fa oggi figuriamoci allora i documenti possono essere anche falsificati si possono scrivere cose non bere si dice che insomma Caravaggio sia stato temporaneamente arrestato per accertamenti per verifiche di qualche tipo Caravaggio quindi sarebbe stato incarcerato ci resta un giorno circa forse nemmeno un giorno mentre la feluca è ripartita per andare verso verso Porto Ercole che era il suo scalo principale e da lì poi ritornava indietro qualcuno dice è stato arrestato appositamente perché la feluca potesse andarsene con i suoi quadri che poi tornando sarebbero andati a Napoli di nuovo sarebbero finiti sarebbero stati requisiti e dopo si è stati requisiti in qualche maniera le persone potenti che volevano questi quadri e attenzione tra questi c'erano anche diciamo signori dell'Emilia dei granducati della zona dell'Emilia non c'era soltanto non c'erano soltanto i Scipioni i Colonna e tanti altri c'erano anche altre persone e quindi qui qualcuno ipotizza che sia stato appunto arrestato volutamente qualcuno dice anche di peggio tra virgolette nel senso che dice che veramente Caravaggio qui anche se i documenti dicono che è stato arrestato in realtà non ci è mai arrivato che l'hanno ucciso nell'imbarcazione o che è morto già nell'imbarcazione e l'hanno gettato a mare e hanno fatto finta hanno scritto dei documenti falsi sull'arresto in modo che comunque potesse ripartire la feluca con i quadri con una qualche giustificazione di tipo giuridico insomma tutto questo è molto fantasioso fantastico molto accattivante però non sappiamo veramente come stanno le cose sappiamo solo che i quadri sono tornati poi a Napoli e che sono stati requisiti dal governo per poi insomma fare altri altri giri erano quadri comunque che in fondo Caravaggio voleva consegnare appunto a Scipione Borghese o al Papa Borghese per avere la definitiva diciamo il definitivo perdono per il suo omicidio insomma e questo questo però non avverrà da notare anche qui lo strapiombo sul mare carceri acqua vita come dire molto molto particolare ma osservando come dire un po' tutto quello che è successo a Caravaggio sembra quasi che ogni volta Caravaggio queste cose se le fosse andate a cercare questo è un po' il discorso e perché se le andate a cercare su questo che lavorerò in futuro approfondendo alcuni aspetti assolutamente importanti tra questi e poi tagliamo perché sta diventando un po' lungo questo terzo video gli spunti dicevo sono questi di questa che in questa mappa sono rappresentati in questi tre punti 3 4 5 e cioè coazione a ripetere lo scritto di Freud del primo ventennio del novecento al di là del principio del piacere dove si parla di pulsione di morte e di contrasto eros e zanatos cosa che possiamo notare senza nessuna difficoltà in Caravaggio osservando l'intera opera non soltanto le opere di tipo religioso ma anche quelle di tipo allegorico mitologico il masochismo morale come lo chiama Freud cioè il senso di colpa che lo portava probabilmente a questa coazione a ripetere a questa aggressività mirante appunto ad essere punito e questa punizione diventa sempre più forte e sempre più grave fino a che appunto c'è la punizione massima che è la condanna a morte per omicidio è come una sorta di escalation e ha rischiato di uccidere di nuovo anche a Malta tra l'altro anche lì appunto ecco questo è un aspetto importantissimo va approfondito con degli studi molto specifici che tengono conto appunto di tanti di tanti aspetti della psicanalisi che non possono certo essere esauriti in un video di questo di questa tempistica che sto questo video che sto elaborando gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola questo è un aspetto importantissimo perché Ignazio di Loyola che muore se non sbaglio nel 1560 circa insomma o 56 aveva pubblicato aveva creato l'ordine dei gesuiti dopo aver scritto questi esercizi spirituali un'opera che è stata importantissima nel suo tempo tra l'altro Ignazio di Loyola era un personaggio un po' come Caravaggio all'inizio prima di avere questa svolta e ci sembrerebbe quasi che Caravaggio come Giordano Bruno come altri avesse intrapreso una via come dire fosse sulla strada per essere un po' come San Paolo per avere una vera conversione sulla via di Damasco cercasse insomma la via giusta per svoltare completamente la sua esistenza cosa che non è riuscito a fare ha fallito da questo punto di vista ma gli esercizi spirituali contengono degli sfunti veramente incredibili e straordinari soprattutto quando si parla e tra parentesi gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola sono importanti e lui li ha conosciuti molto prima di arrivare a Roma perché erano ispirazione anche di Carlo Borromeo tra l'altro quindi lui potrebbe aver già letto nella sua breve esistenza a Milano breve esistenza che significava anche andare a scuola delle scuole particolari delle scuole religiose ovviamente che potrebbe aver fatto insieme al fratello e allo zio potrebbe aver frequentato visto che la famiglia per parte di madre era comunque molto vicina ai colon che si potevano permettere anche di pagare un minimo di studi a tutta la famiglia Caravaggio insomma Merisi anzi e quindi lui conosceva questi esercizi spirituali e all'interno di queste pratiche ci sono un'infinità di spunti che riguardano soprattutto l'importanza negli esercizi spirituali dell'immagine delle immagini immagini particolarmente vivide di immagini che potessero scatenare un senso del sacro molto più potente molto più interiore anche e che potessero indirizzare sulla giusta strada su questo ci sono dei passi specifici di Sant'Ignazio adesso non mi metto a leggerli perché il tempo si è allungato ma penso di fare dei video aggiuntivi prossimamente su tutti questi punti in modo più specifico e Ignacio di Oliola appunto era famosissimo quando Caravaggio arriva a Roma la spiritualità dei gesuiti e soprattutto gli esercizi spirituali di Oliola erano come dire qualcosa di molto conosciuto e molto importante anche per Ignacio di Oliola si trattava di avere un approccio particolarmente forte con il sacro con la presenza divina con il senso del perdono con il senso della con la confessione la penitenza con una spiritualità che era appunto la stessa attorno alla quale come dire ruotava anche un po' la testa di Caravaggio una spiritualità di tipo proto cristiano diciamo paleo cristiano terzo punto che purtroppo devo trattare in maniera molto rapida l'aspetto alchemico ma l'alchimia vista dalla psicanalisi vista da Jung l'eretico cacciato da Freud dalla psicanalisi originaria o l'alchimia vista da Hillman eretico cacciato da Jung quindi diciamo si ripropone un po' una scansione anche nell'ambito delle sette psicanalitiche tra virgolette l'opera al nero quella di Caravaggio più di qualsiasi altro pittore è un'opera al nero guardate questo dipinto dove l'estasi avviene in un momento notturno dove la materia si perde dove gli orizzonti i limiti si perdono e il santo manifesta la sofferenza le sofferenze tra l'altro come vedete in questa mano non si vedono altre stimmate si vedono le stimmate nel costato e basta come abbiamo detto prima l'opera al nero l'anigreto che è anche definita le volte melancolia oppure ombra cioè le ombre Caravaggio le ombre e qui torniamo anche al discorso iniziale che ho tralasciato per poi riprenderlo appunto il mantello nero di Caravaggio Caravaggio è citato dalle fonti da più fonti come un tipo che andava in giro di notte con un mantello nero anche questo è un simbolo di tutta la sua esistenza nascondersi nell'oscurità nascondersi nelle proprie ombre e questo lo ha connotato sicuramente per tutto il periodo romano ma anche nel periodo maltese diciamo quindi ci sarebbe da approfondire tutto il discorso dell'associazione tra opera di Caravaggio e alchimia ci serve da approfondire attraverso la lettura degli studi di Jung psicologia alchimia o di Hillman sul suicidio che è importantissimo l'altro sul sogno e il mondo infero e insomma sono tutte cose che non possono essere esaurite in breve tempo sono aspetti molto specifici che hanno delle connotazioni dei riferimenti anche in dipinti o allegorici o religiosi in ogni caso insomma tutto quello che ho cercato di descrivere in questo terzo video ha a che fare con una interpretazione dell'arte di Caravaggio da punti di vista completamente diversi e poco se non per niente praticati dalla storia dell'arte che va un po' troppo a senso unico e troppo poco trasversale ecco volevo dire un'ultima cosa cioè che è anche probabile che i guardi di Caravaggio che Caravaggio stesso abbia pensato i suoi dipinti come per esempio come modo per fare autoanalisi ma anche come modo come un po' come gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio che se si va a leggere bisognava dare lui usa spesso questo termine dare gli esercizi sono i guardi di Caravaggio come degli esercizi spirituali dati a persone che possono permettersi una sorta di autoanalisi per conoscere la propria coscienza modificarla e raggiungere uno stato di serenità che non si è raggiunto in precedenza qui non ho inserito il confronto con Giordano Bruno ma chiaramente ci sono tantissime confluenze di sensi di significato tra l'opera di Giordano Bruno e l'opera di Caravaggio e comunque bastavano queste insomma le cose che abbiamo detto servono per avere un'impressione una sensazione per esercitare delle forme di ermeneutica fruttuose sull'opera di Caravaggio questi aspetti molti di questi aspetti non sono stati descritti da nessuno quindi io li descrivo probabilmente per la prima volta non sono a conoscenza di storici che hanno approfondito questi aspetti così come li ho impostati io e con questo concludo questo terzo video che mi sembra che è già sufficientemente lungo arrivederci grazie a tutti